Sembrava una giornata, quale lunghe, quella odiana, ma così non è stato. Poiché l'amore è puro ed incondizionato, ha trovato il modo di sorprendermi all'ennesima ottenza. L'amore è puro ed incondizionato. Ha trovato il modo di sorprendermi all'ennesima ottenza. Per l'ennesima volta. Se dovessi descrivere cos'è l'amore, sarebbe proprio così. Sentire i bisogni dell'altro, senza nemmeno la necessità di parlare. Semplicemente ascoltando, con attenzione il suo cuore. Nel resto si sa, sono i piccoli gesti, quelli in grado di fare la differenza. In qualsiasi tipo di circostanza. E' difficile immaginarmi accanto a qualcuno con caratteristiche diverse. in qualsiasi tipo di circostanza. 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 Grazie.